Io credo nel mio prossimo, nei miei simili. È per questo che proviamo a incontrarci e ci sforziamo di capire le nostre vite. La nostra comunità è di fronte ad una scelta, è con Cristo o è con Graalto. La scelta, la scelta in cui vivi, è molto simile a dove la mia mamma cresce, che aveva avuto un po' di tempo come un po' di childe. Quindi è solo una o due generazioni in l'ultima. Un caratteristico più grande, vivendo una vita molto divertente. Ha avuto un po' di vita, nell'ultimo lavoro, disoleto l'autorità, non molto niente benvenuto cosa fare. Un'altra manca, molto chiuderemente. anni prima di suo tempo. E, per tutti i conti, ha amato il partito in buoni tempi. Ma è molto più un animale politico e l'idea dietro il hall era di organizzare politicamente dal punto di vista. Una parte di me vuole urlare. E una parte di me vuole chiedere quale crimine abbiamo commesso. I think next to the script casting is the most important issue because you've got to find people who will bring it to life and the audience will believe and it means the characters as written have to bend a little towards the people playing them and particularly a character like Jimmy Gralton where there are so many elements to him because it was a dance hall we felt he had to have a kind of warmth and a spirit and a generosity and a vitality about him. dobbiamo tornare a essere i padroni delle nostre vite per vivere davvero festeggiare e danzare da uomini e donne liberi. a 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